I pugliesi hanno fatto vincere le ultime elezioni regionali a quella che un tempo chiamavamo la coalizione di centrosinistra e io come mi ero impegnato a fare ho coinvolto il Movimento 5 Stelle. Così il governatore di Puglia Michele Emiliano ieri sera alla festa di Con a Manfredonia nel Foggiano ha illustrato il suo progetto politico. Tra il Movimento 5 Stelle e il PD ci sono altrettanti elettori che non hanno una casa strutturata, non si riconoscono nei partiti, ha aggiunto Emiliano, quindi servono movimenti civici che però non possono non essere organizzati. La lista con Emiliano si è costituita in un movimento, ha precisato il governatore e io mi auguro che il dialogo tra tutte le componenti civiche, anche con le liste che non hanno passato la legge elettorale pugliese, possano unirsi. Infine Emiliano ha parlato anche della proposta di immediata abrogazione dell'assegno di fine mandato per i consiglieri regionali all'indomani delle proteste dopo la loro reintroduzione lo scorso 27 luglio. Mi pare sia la cosa più giusta, ha dichiarato il governatore, hanno fatto questa delibera senza neanche avvisare il presidente, ma adesso vedo che ci stanno ripensando. Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, si è detto disponibile a collaborare con il governo al fine di garantire percorsi di integrazione in favore di donne e uomini vittime della crisi in Afghanistan. Lo si legge in una nota giunta da Palazzo di Città con il progressivo ritiro delle truppe italiane in quei territori, spiega la nota, il governo ha ritenuto opportuno predisporre un piano per mettere in sicurezza i collaboratori del contingente militare a Kabul e del comando di Yerat. Su indicazioni del sindaco, ha spiegato l'assessore ai servizi sociali Gabriella Ficocelli, ho convocato un coordinamento con assistenti sociali e psicologhe specializzate nell'ambito dell'immigrazione, con l'obiettivo di monitorare la situazione attraverso la prefettura, fare rete con la polizia locale e la protezione civile, prepararsi a organizzare l'eventuale accoglienza, soprattutto di donne e minori. I lavoratori portuali proclamano lo stato di agitazione. Secondo una nota dei sindacati CGL e Cisle, il trasporti era già stato chiesto un incontro urgente al prefetto di Taranto, Demetrio Martino. Le ragioni e la base della proclamazione si leggono il comunicato, sono i contenuti della nota della provincia di Taranto, che hanno provocato l'immediata delocalizzazione dei traffici verso altri porti pugliesi e non al fine di evitare un inconveniente conseguente alla movimentazione di materie rinfuse pulvirolente in assenza della richiesta di autorizzazione all'emissione in atmosfera. Sono 7.260 nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 206.531 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 3,5% in aumento rispetto al 3,1% del giorno precedente. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 55, mentre i guariti 5.465. Aumentano di 18 unità le terapie intensive, mentre sono 68 in più i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid. In Puglia invece sono stati registrati ieri 217 nuovi casi a fronte di 12.761 test giornalieri effettuati. 14 sono i nuovi positivi in provincia di Taranto. 2 le persone decedute sul territorio regionale. In Puglia sono state consegnate circa 260.000 dosi di vaccino anti-Covid. In questo momento la Puglia ha in giacenza circa 460.000 dosi. Nelle ultime due settimane c'è stato un rallentamento nelle somministrazioni rispetto ai mesi precedenti. Da una media di 35-40.000 inoculazioni al giorno, ad agosto si è scesi a 20-25.000. Dopo ferragosto, negli ultimi tre giorni, non è mai stata superata la quota di 20.000 somministrazioni giornaliere. Intanto in AS Taranto la campagna vaccinale ha raggiunto quota 712.672 dosi di vaccino somministrate. Rispetto a questo dato, oltre 337.000 cittadini hanno completato il ciclo vaccinale. Si svolge quest'oggi il primo evento Open Day per la vaccinazione a Taranto dei giovani di 12-18 anni che aderiscono alla campagna Scuola in Sicurezza. L'evento si tiene presso l'Hub Porte dell'Oionio operativo dalle 18 alle 24, accessibile in modalità drive-thru. Possono ricevere la prima dose le ragazze e i ragazzi che abbiano almeno 12 anni compiuti nel giorno di somministrazione della prima dose e per la vaccinazione sarà necessaria la sottoscrizione del consenso informato di entrambi i genitori del minore. L'adesione ai due Open Day può avvenire sia ad accesso libero sia su prenotazione tramite i canali ordinari. Il secondo appuntamento sarà il prossimo venerdì 27 agosto. L'occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid in Puglia resta ferma al 5% sia nei reparti di malattie infettive e pneumologia che nelle terapie intensive. A rilevarlo l'ultimo monitoraggio dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali aggiornato al pomeriggio di ieri. La Puglia quindi al momento non rischierebbe il passaggio in zona gialla. Intanto quest'oggi la cabina di regia nazionale dovrà riunirsi ma non ci saranno novità. Il Ministero ha infatti fissato le soglie al 10% di occupazione nelle intensive e 15% nei reparti di malattie infettive e pneumologia. La SD Castellaneta ha ufficializzato ieri altri due colpi di mercato. Si tratta di Cosimo Gaetano Mennella e Giampiero Di Prizio. Il primo è un portiere classe 2002, stessa età ma diverso ruolo per Di Prizio, centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Bari. Primo allenamento ieri per il Cusionico che in vista della nuova stagione si è ritrovato al Palafium con l'organico al completo. Sotto lo sguardo attento di Cocciolive anche i nuovi acquisti arrivati nel mercato estivo. Sono entusiasta di questa avventura, ha dichiarato ai nostri microfoni Biagio Sergio, alla classe 1986. Vedo tutta la società partecipe ed è una bella cosa. Al di là del ruolo, conclude, sarò sempre pronto ad aiutare tutti i miei compagni in ogni situazione.